buongiorno a tutti oggi il 27 di luglio qui siamo a los angeles sono a pochi chilometri dall'aeroporto e dal centro eagle rider dove noleggiano le harley davinson ho l'appuntamento tra poco alle 9 e ritenerò finalmente la moto quindi inizierà il mio on the road 2019 stanza 329 ho dormito qua stanotte vi faccio dare un'occhiata la stanza faccio il bagno doccia power bank frigo che lasciamolo stare ho già preparato un po di attrezzatura per fare i video la gimbal il casco con la gopro montata da iro set black qua invece c'è la parte che da sull'interno con la piscina eccomi qua ciao ragazzi qua in questo motel c'è una connessione wifi molto buona addirittura meglio del modem che ho noleggiato questo il teppi come si chiama che sinceramente per quello che costa non è che che funziona poi molto bene dunque programma della giornata tra adesso sono le sette neanche giro la telecamera programma della giornata tra poco questo non è anche le sette chiamerò il gold rider perché per le nove ho l'appuntamento per ritirare l'electra glide dai gold rider che non dista tanto da qua sono circa 5 minuti di macchina poi niente fare un giro santa monica o comunque qualche zona qui nell'area di los angeles voglio fare qualche foto qualche video dopodiché oggi pomeriggio incontrerò alle bad di chopper king e il mio caro amico emil invece verso verso la sera in serata e andremo a cena insieme vi farà vedere tutte le sue moto ne ha 7 anche degli evolution si vede anche qui c'è vicino all'aeroporto e niente quindi il programma è quello di incontrare questi due amici poi alla sera mi dirigerò verso sud verso san diego ho una prenotazione di un motel a san isidro che è veramente a pochissimi chilometri pochissimi chilometri col messico e invece domani invece domani mi dirigerò verso tuzon quindi arizona e quindi inizierà a fare caldo ragazzi qua chiudo la porta quindi niente ho fatto un video adesso così di aggiornamento visto che c'è una connessione ottima e lo posso caricare velocissimo quindi ragazzi state collegati se vi piace il mio video e questo viaggio stay tuned e iscrivetevi al mio canale ciao ragazzi ciao